Ok, c'è tutti i ragazzi qui che vi parla Soran99 e AuronDiGuardia98 Ok, e su 360 AuronDiKiller Sì Vabbè, stiamo iniziando una battaglia, una campagna in Geals of War 2 in co-op Io sarò nello schermo in alto e Auron nello schermo in basso Almeno teoricamente Allora, questo gioco è un gioco che, diciamo, ha fatto la leggenda Infatti la prima volta ho giocato a caso del mio leggendario cugino E basta, da quel momento Non mettere in pausa Eh vabbò, spero si potesse saltare Da quel momento ho iniziato a giocare Saltato con Beck Ah Iniziato a giocarci Poi dato che... Non sono mai riuscito a finire la storia perché in una settimana non sono riuscito a finirla Io sono mio cugino Perché naturalmente non possiamo stare a tecca di tutto il tempo E... Ho ho E ho ho Ecco Ok, invece io ho fatto... Cioè, la campagna non l'ho mai finita perché sinceramente non mi piace molto da solo Infatti la faccio sempre con Auron di solito E... Da soli siamo arrivati al pezzo bello Al pezzo... Che vedrete più avanti Che è uno spasso Aspetta ragazzi un po' Come al solito spegniamo il ventilatore Fermati 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 Sto parlando il ventilatore Fermati 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 Sì 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 Vabbè No no, facciamo una sessione Facciamo Sì, in capitoli, diciamo. Sì, no, aspetta, quando finiamo il primo capitolo del lato 1, stoppiamo. Esatto. No, no, questo chi è? Non mi ricordo, come è che stiamo? Carmine, sì. È il mio preferito, solo che è alla fine di fare una portafide. E tutto per darti delle munizioni. Salta addestramento? No, io non mi ricordo più tasti. Ok, allora, gestamente. Ma non sarà qualcosa di rapido, di grosso rapido. Solo per ricordarmi in tasti mi ci dobbiamo un po'. Ah, mi sembra che ti metti in copertura. Sì, ah, mi ricordo che sarebbe al cuore di mettersi in copertura. Questo spari, questo tu mi riuscire. Sì. Io non sto giocando con l'HD. Non sto giocando con l'HD, a me, a me? No. Caspio. Sono una severa. Ok, allora, questo qui mi ha fatto per la cosa. Ok, io sono cosa sopra. Ok, ho fatto una... Così, sì, sì, mico. Così, miro. Così si va a percorrere. Bom. Avanzi. Certo. Bom. Rotazione SWOT. Avanzi. Aspetta un attimo che conto per questo. Ma non dire cazzate. Regolatore. Ah, con questo si ricarica. Lo so. E io ho trovato qualcosa. Ah, uno di quei quelli che si ricarica. Tieni sempre giù a testa in questo, non so che è tutto andare. Bravo. Quora possiamo passare? Andiamoci. attimo. Sì. Sì. Grazie. Si può anche scavalcare, no? Non questo, scusate. Ma io sobbiamo sparare ai... ai bossi. Ma io non li so prenderti se non sparo troppo. Ah no, poi io non so cosa ho spazzatura. Rettivo. Ah no, ecco perché non riuscire da battere, non potevo. Non faccio impugnare la pistola bene. No, con questi in giù. Ah, questi in giù. Guarda che la pistola è più simpatica. Buoh, la pistola è più simpatica. Buoh, la pistola è più simpatica. Così invece lo faccio a portare. No, camola. Minacci. Buoh, la pistola è più simpatica. Ok, basta. No, è spazzolato. Si. Ma perché poi si sfondano la cazzo? Oh cavolo, ho visto qualcosa passare. Era quello che è il cane? No, ho visto un tipo alieno, un oocusto. Ecco, ecco il cane scimmia. Ah, un abietto. Non è un cane scimmia. Allora, il cane scimmia, ti ho visto prima. Non è un cane scimmia. Perfetto. Non è un cane a posto. Non ha un cane a posto. Alex. È un cane scimmia. Faccio io. non riesco optic scusate interazione, ah devo premere x no lo faccio io insieme double calcio l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso io e tu l'hai tirata qua sopra oh cavolo cosa cazzo Peterina è successo oh tutto bene l'incarne l'hai sentito? si fai un'altra calzata nel giro e ti uso come manichino per fare pratica con la motosega ti odio ti odio ti odio profondamente stupendo farlo con la motosega prendo munizioni io intanto scala? dove cavolo la vede la scala? ah ok nel buco lui è una scala a buco prima o poi riuscirò a vedere il faccia carne eh ma no è sempre il coso appunto prima o poi ci riuscirò strada verso l'ospedale c'è quello che mi ha andato da questo lato? non lo so no perchè prima mi facevo inquadrare di la ah io non l'ho inquadrato correre la ma... no dove lo togliamo? king raven ah un ravido è un mio obiettivo anche il mio allora questo appunto si l'avevo tutte e due ma io l'avevo già sbloccato no non l'abbiamo sbloccato hai vero che l'ha fatto la salta si ma... 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 perchè io ho una granata in mano? oh ma adesso il suo è passato si si ora dobbiamo fare un sederino un po' di robuste e non si dice che c'è il pare? c'è il pare? forse... no beh questo non è hey jack che tipo c'è? anche se non tu eh si ti ispira a distruggere a jack eh quella non tu sei la distruggere mi dico dove devo tornare a controllo mi sento che bisogna andare di qua buona fortuna provoca attenzione e abbazzo tutto che diventare per cazzo no non neanche di qua odiamoci si che era adesso di qua non poteva sentarla con una pedale oh guarda che bella armatura oddio questo è il mio mito che crepa dai lo so è diciamo il nero muscoloso che alla fine muore sempre lo so lo so seguite babbo perchè aveva questa armatura sta ah no era diventato un blocco la sua armatura non era ancora non l'aveva ancora texturizzata si vabbè si vabbè se vabbè se vabbè se vabbè se vabbè guarda 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 nel buco nel buco guarda guarda e cavolo cosa ti metti davanti no? avrande killer avanziamo dovesse avere il mio bustone o ancora allora no coscrive un mio biondito coscrive il mi piace ti ricordi? devi tendere un imboscato alle locuste o deficiente non mi fa stare giù no sta dicendo il mio stai giù stai giù ma ora s'è andata anche l'elettricità se mi fai stare giù magari eh non sperate che non sono sottotitoli quello di nuovo aspetta che si avvicinano aspetta io sto così tanto ormai l'abbia ammirato quindi ce la facciamo scusa vediamo no ti dico io via tra 3 2 1 shot ok perfetto no mi sto caricando ho fatto il caricamento perfetto e mi ho bloccato io ce l'ho già con l'obiettivo del caricamento perfetto che è compreso il mito di caricamento attivo va a fare la papà e lui mi e tai mi si mette in mezzo quando dovevo fare una cosa figa cioè questa cosa c'è qua basta mi ha capito io devo seguire te giusto non tai giusto di capo no mi ha sbagliato strana però ci sono delle munizioni visto che alla fine ha portato una buona roba tu vado a prenderli e se lo tai mi dispiace che ho preso il mito di caricamento al basso mi dispiace che ho preso il mito di caricamento al basso anche io adesso mi metterò la pistola ritirati dai ritirati dai ritirati ritirati quindi stiamo tirati è libera? io quanto pare su muoversi tai e tai mi blocca la vostra sto qui opprimpio sotto le scrivanie infatti distruggetemi parlatemi pure addosso al mondo non riuscirete mai il ciclo caricamento perfetto la copertura attenzione eccole lì uno addirittura si è nascosto dietro una sede all'hotel non si è cercato di andare e questo che diamine è stato? mi chiedete una signora taglia ecco l'ho tirato giù il tavolo eh siamo liberi qua dai la magia ti sto aspettando oh 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 mi dovrò stanare scusami eh ecco va che sei stanato ho dovuto far uscire la gente di una giornata in quel posto granata a caso eh eh però l'hai preso non si è notato eh no tentoro ok ti nascondeva troppo questo era un fifuno eccolo lì tento che c'è uno dietro mio pronto amico via sparimo insieme eh sotto è dietro quell'ettino ospedaliero vai out hai riscato di prendere te anche perché c'è tutto davanti ma tanto non mi fai male non c'hai foco amico oh aspetta granata ok arriva 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 mi provo ad entrare mi provo ad entrare mi provo ad entrare bravo eccolo qua non c'è vero banale la cacchio allora lasciala a me aspetta stai intento non è che c'è uno che ti sta davanti a cosa ok mi ha ammazzato quello ah ok quindi dobbiamo fermarci complimenti no no mi puoi rianimare credo no ok carica e poi potevo andare da segarlo in due eh ma se siamo in una strada così non puoi fare certe cose e voi ricordate che siamo in difficoltà normale oh no non da qua eh li ritiro io adesso dai avanti aspetta e inoltre tu mi sparate addosso non potete farmi niente muori 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 muo nessuno uscirà da qua a vivo ok chi è al prossimo? ah sono finiti ok è il fine dei giochi qua attenzione nemici fondo fondo stai amati la morte e il sale la verità e il sale della morte ora un'altra cosa la morte non 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 la morte ma non non la morte è indistruttibile ho preso anche dietro l'angolo ma questo che fucile è? non è un fucile ok uno è andato via l'ho ammazzato io e io l'altro ammazzato non puoi sopravvivere no non vale l'odio lo fai tu e non lo posso farlo io non è giusto cos'ha questo qui? orca al pistolone questo va bene non fa di bastardo ma devo riprendere e mettere in pratica una revolta dai vai mettere in pratica il mio revolta dovrebbe esserci l'una nel scosto l'altra dai fermati crepa bello il revolta ah no quello è in tai oh tai sei troppo grosso stavo mirando anch'io è troppo grosso non è che ho paura sembra una locusta finita vabbè io adesso vado di pistola finita apriti non so che non possiamo andare di qua eh questo presentimento ma non so no mi posso riparare di trasferire le rotelle qua non dai dobbiamo andare dall'altro lato dimunizioni tanti io sono fuori qua scoppilazzato che cosa che ti viene successo wow sono solo che qua c'è un bel po' di decustone guarda lì agonizzante wow il revolver è un'arma da distruzione di massa e due colpi ne ammazza uno no agonizzante no me l'hai fregato me l'hai fregato me l'hai fregato me l'ho dato io in agonia ora il revolverone però fa il suo lavoro eh vai via prendo una bayonetta non si so mai eh si anch'io no è una bayonetta è un fucile con la motosega appunto prendo il bayonetto oh un raven si spara 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 al conducente avrà più vite quando lo incontreremo più tardi a quanto pare finiti ah no vabbè non ho ancora finito vai a revolver pistola mi sento Chuck Norris che dovremmo vedere mercenari 2 qua c'è una carica di cassa di munizioni oh bella lasciamela si si te la sto lasciando qua tu te li toccare sei morto è un po' difficile eh uccide l'italia ah no se ti vedi lì oh ragazzi però per dirmi eh se ti vedi lì crepa crepa hell shop bitch aspetti 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 oh dai capo e quella lì è ancora vivo prendi il fucile al bayonetto non lo spararli troppo tardi potevamo fargli un'uccisione di quelle crudevi eh vabbè stupor tipo spezz strapparmi un braccio strapparmi un braccio strapparmi un braccio non spezzarmi strapparglielo e pestalo col suo braccio tapo ti stai stunned taddy si vedeva tanto c'è integra poi nel video si vedono tutte le visualizzate damn pura eu даже ho visto s tipo Крас no no spegni il fuoco qui il fuoco magari può ancora essere quello lì era lo gestione, oh si fermo lì la locusta no lasciamelo fermo fermo vieni qui ehi vieni qui oh quella scappi bastinco guarda si nasconde anche in mezzo ok io direi di andare a coperto se tratti diciamo adesso in trappola userò il revolver io userò il fucile fregato a loro ammazzare quella propria arma questa si è una pezziura no son re si è messo in mezzo solo per dargli colpi di grazia guarda non ha malattia crepa no fermo non toccatelo fai quella molto seca fai la baionetta b no dovevi fare b direttamente alla terra così spezzi il collo e basta e vabbè andava bene qua c'è per munizioni ah vado ok perfetto l'altra prova da pistola invece mi servono sempre munizioni per la variamento ancora obscure perfetto connessioni di merda non avrò perchè? ecco quello prima era optica ah allora perchè hai detto un po' optico? no perchè in questo video tutti i miei compagni di clan si vedranno cioè tutti itns online itns online da cazzo stiamo andando io sto andando nella zona grossa in guerra è una zona pericolosa ah ok perfetto fino a liberiamo lo studio lo spacciamo perchè è da tipo 20 minuti che stiamo registrando lo sai vero? cosa? tipo 20 minuti? 21 in realtà o 22 comunque tanto tanto tempo si questo video lo caricherò in tanto tempo ora facciamo la partita oh cacchio l'ultima risuola eh l'ultima risuola eh l'ultima risuola dopo chiudiamo ok? si oh tu mira quella porta io miro l'altra io questa ma questa li sto mirando eh si ma non ho granato cosa aspetti? droni dall'altro lato dai però se non si vengono mirare ma che droni scusa? ma che non so cosa cosa ti fa adesso non ti prendo la porta non so che ha fatto attraversa l'hai bisciottato che ha fatto è un'arma la voglio più però o cacchio io farò il cerchini vero? si il cerchini è mio me lo lasci certo vuoi lasci dal mio lato vieni dall'altro lato utili dall'altro lato insieme a te aspetta un attimo c'è uno agonizzante si io ti copri intanto no tu non lo tuoi più e dai crepa ecco agonizzante fai di b gli ho fatto b ah non gli ho tirato solo un colpo con chi ha male fatto con la baionetta strano dovremmo andarci a vedere dopo l'edmanuale per fare le morti forse era y io direi di comunque staccare ora forse abbiamo anche finito questo obiettivo si si adesso lo stacchiamo beh ok adesso visto che mi sono a te le fanno dire che possiamo anche staccare quindi da solan 39 è tutto e da auron the guardian abbiamo chiuso ciao a tutti